Ciao ragazzi, oggi ho deciso di portarvi un tutorial diverso dal solito. Vedremo infatti le basi di Adobe Photoshop, il software per editare le foto. Quindi, se volete che questo video diventi una serie, un corso, in cui io vi spiegherò varie cose sul software Photoshop, vi invito a sostenere il video mettendo un like qui sotto. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i miei prossimi video. Detto questo, direi di non perdere altro tempo e di iniziare subito con il nostro tutorial. Per prima cosa, dopo aver aperto Photoshop, dobbiamo creare un nuovo progetto. Quindi, basta andare su File, Nuovo. Poi si aprirà questa schermata. Voi dovrete impostare 1920x1080 pixel, come risoluzione 100 pixel al pollice, e poi su Contenuto sfondo, impostate Trasparente. Facciamo clic su Crea, per creare un nuovo progetto. Eccoci qui. Questi sono tutti i pannelli di Photoshop, sia da un lato che dall'altro. Quindi direi di iniziare subito, illustrandovi brevemente a cosa servono tutti questi strumenti. Questo serve per spostare un elemento. Qui abbiamo la selezione rettangolare e selezione ellittica. Qui abbiamo gli strumenti Lazzo, che permettono di effettuare delle selezioni a mano libera. Poi abbiamo gli strumenti Selezione oggetto. Abbiamo Selezione oggetto, Selezione rapida e Bacchetta magica. Tutti e tre ci permettono di selezionare un oggetto ben visibile nella nostra immagine, evidenziando soltanto la parte in cui si trova. Poi abbiamo lo strumento Contagocce materiale in 3D, che non tratteremo. Poi abbiamo lo strumento Pennello, che serve per disegnare, come vedete in questo mini video. Lo strumento Timbro Clone, che serve per prendere un pezzettino della foto, diciamo, e portarlo in un'altra zona dell'immagine, per clonare tutto ciò che c'è all'interno della zona selezionata. Poi abbiamo i vari strumenti gomma, lo strumento per il rilascio materiale in 3D, che non useremo. Poi abbiamo lo strumento per il testo, i vari tipi di penna, i vari tipi di selezione, le forme, strumento mano, strumento ruota vista, zoom, e qui abbiamo altri strumenti che non sono presenti in questa barra. Poi, qui sotto abbiamo gli ultimi due strumenti, che sono per modificare in modalità Maschera Veloce e per cambiare la modalità dello schermo. Passiamo ora ai pannelli presenti in questa zona dello schermo. Abbiamo il pannello per i livelli. Per chi non lo sapesse, i livelli sono tutto ciò che c'è all'interno della nostra immagine. Quindi, se avete mai visto una delle mie miniature, vedrete che di solito io inserisco un'immagine, un testo, e ogni tanto anche una freccetta. Quindi, io avrò più o meno tre livelli. Sostanzialmente, ogni livello sta a rappresentare una cosa presente all'interno dell'immagine. Questi pulsantini qui sotto servono per varie cose. Questo serve per unire due o più livelli. Questo serve per applicare alcuni effetti. Questo serve per creare una maschera di livello che tratteremo nei prossimi video. Questo serve per modificare le caratteristiche della nostra immagine. Questo serve per creare un gruppo, come vedete qui sopra. Questo serve per creare un nuovo livello. Questo serve per eliminare il livello selezionato. Poi, abbiamo questi pulsantini qui a lato, che sono le proprietà di tutto ciò che c'è all'interno dell'immagine e che si apriranno automaticamente appena importeremo un nuovo elemento. E poi, qui sopra, abbiamo il pannello del 3D e il pannello dei canali, che al momento non ci interessano. Ora, direi di passare alla seconda parte del video. Vi mostrerò, infatti, come creare questo effetto che c'è sul mio desktop. Uno sfondo, questa scritta, che sembra parte dello sfondo, che è delimitata soltanto da questo rettangolone arrotondato. Quindi, iniziamo dall'importare la nostra immagine. Se volete, è la mia stessa immagine. Qui sotto, in descrizione, trovate il link per scaricarla. Quindi, prendiamo l'immagine e trasciniamola all'interno di Photoshop. In questo modo. Come vedete, la mia combacia già con i bordi della mia immagine. In caso, per ridimensionarla, basterà premere Shift per mantenere le proporzioni e poi muovere l'immagine a vostro piacimento. Dopo averla ridimensionata a tutto schermo, diamo Invio. Bene. Ora, eliminiamo questi gruppi e livelli che avevo creato prima per farvi un esempio. Iniziamo dal creare un nuovo livello. Ora, dobbiamo prendere lo strumento secchiello, qui sotto, poi impostare qui il colore bianco, poi dare OK e facciamo clic qui sopra. Ora, dobbiamo modificare l'opacità di questo livello. Quindi, riprendiamo lo strumento sposta, poi andiamo su Opacità e vi consiglio di impostare l'opacità al 30%, in questo modo. Per zoomare un po' sulla nostra immagine, basterà fare clic su Control e il tasto più. Ora, dobbiamo creare un rettangolo arrotondato. Quindi, andiamo sullo strumento Forma, teniamo premuto e facciamo clic su Strumento rettangolo arrotondato. Ora, dovremo disegnare il nostro rettangolo. Come vedete, qui sopra si è aperto il pannello delle proprietà e da cui vi consiglio di impostare gli angoli smussati di 25 pixel. Possiamo lasciare il colore bianco e togliamo tutte le tracce, in questo modo. Ora, dobbiamo ripremere lo strumento Sposta per deselezionare il nostro rettangolo. Per spostarlo e ridimensionarlo, Control più T o Command più T per Mac, dopo averlo ridimensionato, diamo Invio. Ora, dobbiamo creare un testo. Quindi, facciamo clic sullo strumento testo orizzontale e poi facciamo clic su un qualsiasi posto della nostra immagine. Il carattere che sto utilizzando io si chiama Hacked. Non è un carattere predefinito di Windows, quindi qui sotto in descrizione vi lascerò il link per installarlo. È molto semplice, basterà cliccare sul link, vi si aprirà una pagina da cui scaricare il carattere. Sarà una cartella compressa. Basterà estrarla. Poi aprite la cartella estratta. Dentro ci sarà un unico file. Date tasto destro, installa. E così installerete il carattere Hacked. Mettiamo maiuscolo e possiamo scrivere tutto ciò che vogliamo. In questo caso io ovviamente scriverò Tutorial Express. Facciamo di nuovo clic sullo strumento Sposta per deselezionare il testo. Poi Control T o Command T per ridimensionarlo e spostarlo. Ora dobbiamo rendere il nostro testo trasparente. Per prima cosa dobbiamo creare un gruppo con questi due livelli, il nostro testo e il rettangolo arrotondato. Quindi selezioniamoli entrambi, premendo Control e poi facendo clic su ognuno di essi, e poi facciamo clic su questo tastino qui sotto per creare un nuovo gruppo. Ora, selezioniamo il testo, poi andiamo qui sotto, Opzioni di fusione. Qui sotto su Fusione avanzata dovremo scegliere Foratura bassa. Spostando questo slider, come vedete, il nostro testo diventerà trasparente. Se volete, per rendere un po' più bello il tutto, potete diminuire un po' l'opacità del rettangolo arrotondato. Andando su Opacità e selezionando 70%. Ora, per ridimensionare il nostro rettangolo, Control più T o Command più T, e poi prendiamo gli estremi e cerchiamo di sistemarli equidistanti dal nostro sfondo. Così avremo questo effetto del testo trasparente. Per esportare il tutto, oppure per salvare il progetto, basterà premere contemporaneamente Control più Shift più S, oppure andare su File, Salva con nome. Ora, mi raccomando, dovete selezionare Formato Photoshop se volete salvare il progetto e poi impostare un titolo. Se volete salvare il progetto in formato PNG, dovete sempre andare su File, Salva con nome, poi aprire questo menu e selezionare qui sotto Formato PNG. Come vedete, qui sotto ci mostrerà come procede il nostro salvataggio. Bene, il video di oggi è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un like e se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi aggiornamenti sui prossimi video. Inoltre, vi chiedo di scrivere un commento qui sotto per dirmi se volete che questa serie continui e diventi magari un corso su Photoshop. Detto questo, da Tutorial Express è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.